Sono Ottavio Della Portella e rappresento Wormatic SRL, che è una società operante nel mondo della distribuzione automatica. Serviamo appunto le aziende ed aiutiamo Quest'Ultive nel creare quell'esperienza rigenerativa per i propri dipendenti. Il nostro rapporto con Fercam & Collapse nasce in occasione di un incontro con uno dei dirigenti di Fercam e da lì furono messe le basi per quello che poi inizialmente era un progetto volto a creare un'area benessere per i dipendenti. Mi ricordo che in quell'occasione di quel primo incontro, che aveva una pura finalità commerciale, ci troviamo a parlare per oltre due ore, perché gli argomenti che poi furono trattati andarono ben oltre il discorso di una mera pausa caffè. Ma da lì presero vita tante idee e tanta unione di intenti nel cercare di creare un ambiente che fosse rappresentativo di quella che è la vera essenza della sostenibilità. Non solo a livello ambientale, ma anche sociale, con l'inclusione di persone bisognose che nel corso di questo progetto hanno trovato un'ampia rispondenza e per alcuni di loro credo che la propria vita sia cambiata notevolmente in meglio. La nostra collaborazione con Fercam & Collapse è di fatto verte su una centralità di obiettivi. Quando per l'appunto presevita l'Ecopark, il ruolo di Warmatic all'interno di questo progetto era appunto quello di creare quel punto di interesse che è appunto dato da una pausa caffè. Diciamo che il caffè rappresenta quell'esperienza aggregante e socializzante per antonomasia. E pertanto la presenza di Warmatic all'interno dell'Ecopark è volta a creare le condizioni per attrarre chiaramente le persone e poter usufruire di un momento di benessere. Questo è il nostro massimo obiettivo. Ma anche offrire loro in questa realtà la possibilità di fare un'esperienza di cosa voglia dire una corretta diversificazione dei rifiuti, cosa voglia dire compattare una bottiglina in pet e ricevere in cambio un premio. Diciamo tante esperienze che poi portano gli utenti a vivere in prima persona quello che secondo noi è appunto la sostenibilità intesa non solo come sostenibilità ambientale, come dicevo prima ma anche e soprattutto sociale. Tutta la realizzazione dell'Ecopark è proprio frutto di questa inclusione sociale. Faircam Ecolabs rappresenta l'essenza di quella che a mio avviso è una rete volta a creare, io mi amerei definire un ambasciatore di buone notizie. Ecco, Faircam Ecolabs è secondo me un incubatore di buone notizie e di buona vita perché rappresenta sinceramente quel messaggio positivo di cui la nostra società ha molto bisogno e a livello ambientale e soprattutto a livello sociale. Pertanto il ruolo di Faircam Ecolabs è stato proprio quello di essere un catalizzatore e un punto nevralgico che è stato capace di coinvolgere altri soggetti che altrimenti da soli non avrebbero potuto realizzare quello che poi in realtà si è fatto. Ciao, sono Ottavio Della Portella e anche noi di Wallmatic partecipiamo al progetto Faircam Ecolabs.